E' attentato alla vita la piaga dell'aborto. E' attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. E' attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. E' attentato alla vita la morte per denutrizione. E' attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza. Ma anche l'eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell'altro. Volere il suo bene. Coltivare e rispettare la sua dignità trascendente. Così Papa Francesco ha ricordato con forza gli attentati alla sacralità della vita umana nell'incontro con 400 membri dell'Associazione Scienze e Vita nel decennale di fondazione. Vedo la vostra associazione, ha detto il Papa, come delle mani che si tendono verso altre mani e sostengono la vita. Il grado di progresso di una civiltà si misura proprio dalla capacità di custodire la vita, soprattutto nelle sue fasi più fragili, più che dalla diffusione di strumenti tecnologici. Quindi il Papa ha incoraggiato l'Associazione Scienze e Vita a rilanciare una rinnovata cultura della vita che sappia instaurare reti di fiducia e reciprocità e sappia offrire orizzonti di pace, di misericordia e di comunione, intraprendendo un dialogo fecondo con tutto il mondo della scienza, anche con coloro che, pur non professandosi credenti, restano aperti al mistero della vita umana.